Abbiamo compiuto 70 anni l'anno scorso, la mission principale è usare lo sport, usarlo nel senso di metterlo a servizio dell'educazione, della socializzazione, della difesa dei diritti dei più deboli, per cui favoriamo attraverso lo sport soprattutto l'inclusione delle fasce meno fortunate. E quindi cerchiamo di portare anche le attività dove è più difficile farle, dove magari non ci sono strutture, dove ci sono carenze a livello proprio sociale. Questa è la cosa principale. Per cui la nostra visione dello sport non è rivolta alla specializzazione, alla estremizzazione del concetto agonistico alla vittoria, ma invece tendiamo ad allargare quanto più è possibile le basi e quindi lavorare soprattutto con i bambini, cercare di far avvicinare i bambini a sport anche un po' meno conosciuti, al di là del calcio, eccetera. Per fare questo usiamo ovviamente delle manifestazioni che si fanno a livello nazionale.